visitando i vivai fistogliesi di piante ornamentali e da rimboschimento, la cui cultura si intensifica annualmente in Italia per arricchire il nostro patrimonio arboreo ed emanciparci completamente dall'importazione dall'estero. Per essere trasportate le piante richiedono un particolare accurato confezionamento come infinite attente cure richiedono le piantine per crescere così sane e forti come le vedete. Grazie.